luogo di provincia e adesso è arrivato con il trofeo città di Monza. Ora siamo con Milena Baldassare. Esattamente. Grazie a tutti. 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 addirittura al gruppo sportivo dell'aeronautica militare e per i pochi che non lo sapessero anche Milena è nata a Ravenna è di mamma russa quindi in queste nostre due individualiste scorre il sangue della grande ginnastica dell'Est la scuola dell'Europa orientale naturalmente è un faro, un punto di riferimento di questo sport che sono tra l'altro molto apprezzate